Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video speciale dedicato al mio centesimo iscritto e cioè Emiliano74. Emiliano è un fan di The Mask da quello che ho potuto vedere anche dall'immagine del suo canale e anche per il fatto che il primo commento che ho ricevuto da lui è stato proprio sotto alla recensione della doll di The Mask in cui paragonavo le due versioni dell'Asmus Toys. Oggi andiamo a vedere la limited edition di Stanley Ipkis e cioè il personaggio interpretato da Jim Carrey che poi si va a trasformare in The Mask per chi non lo sapesse. Allora questa edizione è stata annunciata poco dopo la vendita del The Mask base e era stata fatta una versione con solo Stanley che è quella che ho preso io per chi aveva già The Mask oppure era stato creato un pack con tutte e due le doll insieme per chi appunto voleva recuperare The Mask che era ormai andato esaurito. Io sono stato fortunato che avendo già The Mask comunque ho potuto acquistare o comunque ho potuto avere questa versione. Il prezzo tra l'altro era anche abbastanza basso per essere una doll e infatti si aggirava attorno ai 60 massimo 70 euro acquistandolo direttamente dal sito Asmus e in un mese si aveva a casa il tutto. Direi di andare a vedere innanzitutto la scatola. Oggi muoverò un po' la telecamera vista la dimensione per farvi vedere tutto al meglio. Quindi togliamo il nostro Stanley momentaneamente e andiamo a vedere la scatola su cui abbiamo un'immagine del prototipo, la scritta Limited Stanley Ipkis, Stanton e Mensos X Asmus Toys, sono i produttori, poi qui sotto la scritta Mask, non c'è la scritta The Mask perché credo non sia licenziata come figure, e qui i due produttori, cioè Stanton e Mensos e Asmus Toys. Ok, adesso andiamo a vedere, sul lato niente di che, solo la scritta Mask, sul retro sempre la scritta Mask, Mask One Six Collectible Action Figure e qui avvertimenti che dicono che non è un giocattolo per bambini e così via, è il logo dei due fornitori, qui di nuovo scritta Mask, come sull'altro lato della confezione. Allora, come posso farvi vedere, all'interno, essendo come vi ho detto, scusate appoggio un attimo, essendo come vi ho detto, una estensione della figure di The Mask, non c'è praticamente nulla. Si trovava solamente il nostro Stanley Ipkis e nient'altro, era semplicemente la doll e basta. Quindi, adesso passiamo al pezzo più interessante, e cioè al nostro Stanley. Ok, eccolo qui. Allora, la cosa che più mi interessava, visto che sapevo che lo sculpt non sarebbe stato il massimo, era il pigiama, perché comunque è identico a quello del film, e trovare una doll o una figure di The Mask in cui viene rappresentato Stanley Ipkis è veramente difficile. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Questo qui è il volto. Purtroppo non è molto somigliante a Jim Carrey, o almeno non lo è al 100%. Secondo me il problema più grande è proprio la colorazione, perché l'asmus ha sempre questo problema che quando va a dipingere qualcosa poi crea problemi anche allo sculpt. Qui abbiamo il pigiama, come potete vedere, del tutto identico a quello nel film. E per chi è fan di The Mask, ovviamente se lo ricorderà benissimo. Ok, direi che abbiamo dato un'occhiata a tutto. Sul retro è praticamente uguale. Ecco qui, anche lo stand non era incluso. Quindi era semplicemente la doll e nient'altro. Ok, vi faccio vedere le sue articolazioni. Allora. Cerchiamo di inquadrarlo al meglio. Abbiamo la testa che ovviamente può, scusate, tolgo dallo stand, può ruotare, guardare verso l'alto e verso il basso. La mia si rimuove perché ho tolto il peg che c'era all'interno, poi vi faccio vedere il motivo. Poi il braccio può essere alzato verso l'alto, verso il basso, piegato il gomito. Ovviamente può anche ruotare, ma non lo voglio sforzare per non rovinare il tessuto. E la mano può girare. Questa mano è in questa posa per impugnare la maschera di l'occhi. Anche da questo braccio stesse articolazioni. Le gambe si alzano in avanti di 90 gradi. Lateralmente si può fare un'apertura doppia a 180 gradi. E sul retro davvero invece pochissimo. E poi abbiamo anche l'articolazione ai piedi. Può andare verso l'alto e verso il basso e ruotare. Diciamo che comunque non aveva bisogno di grandi articolazioni. Una doll di Stanley Ipkis. Almeno dal mio punto di vista non è che avesse bisogno di fare grandissime pose. Adesso vi faccio vedere il motivo per cui ho tolto il peg. Allora, io ho una doll in edizione limitata di Ace Ventura. Che vi porterò sicuramente sul canale. E partendo dalla base di quella testa ho cercato di ricreare questo Stanley Ipkis. Purtroppo le mie abilità di painting sono abbastanza scarsine. Fortunatamente ne ho fatte più copie una volta prodotta la prima, che è questa. E quindi prima o poi riuscirò a colorarlo bene. Io vorrei andare a sostituire questa testa, una volta fatta nel modo corretto, a quell'altra. Vi faccio vedere com'è al momento e come sta. Ecco qui. Purtroppo si vede proprio lo stacco tra il colore della testa fatta da me e il collo. Come ho detto non sono molto bravo nel colorarle. E quello è il problema principale. Poi nelle altre, prima di fare la copia, ho portato anche alcune modifiche. Soprattutto nella zona dei capelli. Però comunque rispetto a quello Asmus è tutta un'altra cosa, direi. E non vedo l'ora di portarvi veramente Isventura, che è credo l'oggetto della mia collezione a cui tengo di più. Cioè quello di più valore sicuramente, ma anche quello a livello affettivo a cui tengo di più, perché mi piace veramente tanto il personaggio di Isventura e soprattutto Jim Carrey come attore. Quindi, questo qui era Stalle Ipkis prodotto dalla Asmus Toys in edizione limitata. Fatemi sapere le vostre opinioni. Spero che vi sia piaciuto e che sia piaciuto anche a Emiliano il mio centesimo iscritto. Lo ringrazio anche per avermi lasciato un commento, in modo che poi ho conosciuto meglio il suo canale. E al momento sto cercando di recuperare tutti i suoi video e molti sono davvero, davvero interessanti. Perché non fa solamente recensioni, ma parla anche del mondo del collezionismo in generale e di come non bisognerebbe vergognarsi di collezionare. Purtroppo sembra invece che si stia facendo qualcosa di brutto, quando credo che sia una delle passioni più genuine possibili. Vi ringrazio ancora, lasciate un commento qui sotto, mettete il mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi ovviamente al canale. Alla prossima e ciao a tutti!